Ehi ragazzi, con l'ultimo canale, siamo qua in questo ottavo video, ottavo episodio di Outlast Niente, subito qua, due batterie, uno e due, proprio così E niente, il nuovo obiettivo è segui, segui la scia di sangue Secondo me bisogna andare là E niente, abbiamo superato un ostacolo molto impegnativo Ma ce l'abbiamo fatta e niente, prossima quest'avventura ragazzi Io devo andare là, però, aspetta Vogliamo fare ancora un giretto qua, per vedere, magari Ehi, ecco, ora che questo batterio che stia ormai E questo è un po' di storia, non lo so E questo è un po' di storia e diciamo E, c'è qua, qua, ma'è, non lo so Che cazzo è? Oh cazzo! Merda! Merda, merda! Oh merda! Oh, che cazzo! Oh! Oh, che cazzo! Oh, che cazzo è! Oh, che cazzo! Oh, che cazzo! Merda! Ok, ok! Oh, che cazzo! Puttana Oh porco Dio, porca cazzo noia, maledetta Mamma mia, ma questo è stato un imprevisto incredibile Come cazzo sono cascato Che paura è? Oddio Vaga E' qua e qua vabbè Proprio Vabbè dai, basta Strezzare Vabbè, però adesso vieni ad ascoltare me Porca puttana Di nuovo Merda Merda Questa puttana Merda Via Eh vabbè, vaffanculo va Noi Noi No MAMMA MIA Ma cosa stiamo facendo guardi? Oddio No Non è possibile, non è vero Mi ha un po' di sottare Come un po' di sottare, come un po' di sottare Die Oh, è l'ora Succa, adesso è super Signore, guarda, vi dico la verità che una volta è che mi è successo per casa Un po' particolare che sono cascato, mai cascato, mai, mai Ok, salrataggio, perfetto, 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 e niente Ok, quella porta è sanciosa Ok, con calma, raga, non è successo assolutamente niente Assolutamente niente So che bisogna proseguire, basta, basta Niente Perfetto, ci siamo, ci siamo, ci siamo, piano piano Qua siamo cascate Meno male che quella porta la sono chiusa, altrimenti Beh Perfetto, perfetto, perfetto Perfetto, perfetto Oddio, ce la vuole, vai, signori Bene, 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 bene Andiamo bene qua, dai Ok, una batteria Perfetto Candela Allora, facciamo così, una porta la chiudiamo Perfetto 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 Se bisogna scappare, una se la chiude, quindi siamo a posto No? Ho visto qualcosa, no? Aspetta, vediamo un po', ma qua si fa tutto il giro Sì, mi ha fatto tutto il giro, qua Sì, mi ha fatto tutto il giro, qua Sì, mi ha fatto tutto il giro, qua Oddio, c'è detto che chi è? Oddio Lai Come cazzo si fa? Ecco, questo è, riconosco la carigrafia Padre madre, ho ucciso un uomo qui dentro Le bucce di quei passi, tutte le cartelle che mancano di queste scatole E i fatti, i rapporti, e sempre le materie governative Avrà almeno 30 anni, forse di più Passano per attenzione a parlare Come culza Sì, a contatto il pensiero Non riesco a fermare Qui ci sono delle macchine, abbiamo poche note Perfetto Un punto diretto Diretto mettere la lista di guarda Non sapevo cosa significa quella di la camera in sotto Fino a un certo momento Adesso lo sappiamo Ma quanti giri stiamo facendo? Tardano in un posto, proprio qua Sì, abbiamo fatto tutto il giro Adesso dobbiamo andare là A quanto pare proprio là Ah, porca puttana Mamma mia Mamma mia Merda Non andare qua Ti prego Non andare qua Ok Non andare qua 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 Perfetto Ok Ok Perfetto 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 Salta Ah, grandissimo Ok, ok Porca putzana, però non è finita eh signor Sono ancora in questa zona Padre Martin, eccola Padre, cazzo ci fai là? Oh, Padre Martin Cazzo fa Padre Martin Mi sta aspettando Signore, Padre Martin è una persona molto molto grande È una persona molto importante in questo gioco E ci sarà un video molto speciale per Padre Martin Mamma mia, perché veramente è indimenticabile Cazzo fa Padre Martin Niente, dobbiamo andare là Mamma mia, qua con siamo vicini, sì, però, eh Faccio andare là, devo andare là Mamma mia, è tutto spaccato, è quando andiamo a saltarmi, sai? Oddio, 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 no Mamma mia, la videocamera, se ne va Un altro mondo Oh, cazzo Eccolo il macellaio Oddio, arriva il macellaio, merda Ma, ma che cazzo Cioè, ma qua crolla tutto, signori, eh, guarda E adesso, adesso si fa grave, eh Nuovo obiettivo, per spostare il buio hai bisogno della tua videocamera Cioè, pensa a te, come, quanto, quanto cazzo devi essere sfigato, eh In questo gioco, veramente, lui c'ha una sfiga eterna Quanto cazzo devi essere sfigato Eee, dove cazzo, oddio Oddio, la videocamera Eccola Eccola la videocamera, signori, però Non sarà così semplice Aspetta, ma questo è il posto di prima, in teoria, diciamo No Sì? No Eee, dove cazzo devi andare? Oh Oh, non vedo cazzo Oh, ok, perfetto, perfetto Una batteria Oh, non riesco Signori, non riesco ad arrivarci là, perché non è un cazzo Aspetta, allora facciamo così Perfetto Perfetto Una batteria, vai Anche se Non ci sarà tanto, eh Ma che cazzo sta succedendo, raga? Non vedo niente Non vedo niente Appena appena, eh Vedo proprio Distinto, eh Proprio s'andato La doccia Grande doccia Quella di cazzo c'è qua Ancora un'altra doccia E allora La vina, va bene Allora, dobbiamo andare giù A quattro da tutto Non vedo niente Vedo malapena, malapena, eh Mmm Una lampadina, stava Oddio L'ho calcolato, eh Arriva il fulmine E corre una persona Calcolato, calcolato Eccolo Almeno vedo qualcosa Se no Adesso non è un cazzo Merda Porca puttana Lo sapevo, lo sapevo Lo sapevo Cristo, Cristo Lo sapevo, eh Era prevedibile qualcosa Che mi accade adesso, eh Ma dove cazzo siamo andati? E cosa sarebbe questo posto In teoria Cazzo è Oddio Cazzo è sto posto? Cazzo è qua Non c'era un Io l'aga, a me mi dispiace Ma io non vedo più niente Se ho perso l'orientazione No, così non va Aspettate Mi dispiace la mente Ma Dove cazzo è la gamma Eh, gamma Ok Adesso almeno vedo qualcosa Lasciamo chiudere Sta porta Ovviamente La difficoltà a vedere Ok, adesso si vede Ok, vai Ho messo Aspettate Mettiamo un po' meno Dai Poi Ah, mettiamo così Eh, che cazzo Metti la gamma Sì Ok, ok, ok Adesso ci vedo Perfetto Volta puttana Vedo niente Oddio Salta proprio il memoria Ok, vai Eccola, eccola Eccola Mamma mia Ma quanto cazzo C'ha paura Non c'è nessuno Signore Dobbiamo raggiungere il piano Che cazzo succede Oh, merda Eh, che cazzo Guarda, non vedo niente Proprio A ricaricare la batteria Sta Mamma mia Ho visto Ok, ok, ok Chiudi, chiudi Perfetto Zio Ok, ok, ok Dai che ce la fai Dai che sei in gran vantaggio Qua, no? Adesso dove E si torna Mamma mia Ok, ok Perfetto 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 Cristo santo Proprio Madonna Eh, colpa mia Non ricaricare la batteria E mi ritrovo In una brutta situazione Mi sono in giro Mamma mia Incredibile Bene ragazzi Adesso si può Anche proseguire Quanto mi riguarda Ma non c'è un cazzo Perfetto Perfetto E allora dove Si ritorna per forza qua Vedendo da qua Si può anche direttamente Passare di qua Eh, infatti Proprio fatto apposta Padre Martin Stiamo arrivando Ecco Cerca Padre Martin In amministrazione Allora qua Sinceramente Non vorrei finire Perché Oh Oddio Non è qua Quel tizio La di merda Ok signore Dobbiamo esserci Siamo qua Capitato Siamo qua Fate tutto il giro Dobbiamo farlo Tutto il giro Padre dove sei Siamo qua Oddio Ma che cazzo Succede Padre Martin Che cazzo Ci fa qua Ancora qua Padre Martin Ma che cazzo Ma che cazzo Fa qua Padre Martin Oddio Oddio No No Rega Ma veramente Oddio Madonna Mamma mia Ma quanto cazzo Si è La Padre Martin Oddio Qua si è Inciampato Si è Inciampato Mamma mia Qua si è Inchiudato Signore Oddio Stiamo vedendo Padre Martin Dalla Prima Mamma mia La prima Persona No Amiche Questo 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 bar Io lo conosco L'ho già visto Signore Questo bar Non è la prima volta Si è già visto Ecco Che si che Però Guarda Però è bello Vedere Padre Martin In prima persona Vediamo un po' Vediamo un po' Allora Vediamo un po' Vediamo un po' Il dettaglio L'occhio Ok Quello perfetto Il prete Poi Inaltra portata Perfetto E guarda Qui L'ha preso Aspetta Iano le ciabatte Le ciabatte Sono quelle Guarda Mi ha dato La camera è rotta E Guarda Proprio Io ho la torcia La torcia Fuota Guarda Proprio Fantastica Veramente Non c'è che dire Guarda Padre Martin Signore Padre Martin Così che Si inchioda Proprio Per noi Ecco Grazie Padre E poi Per dire Quanto cazzo Di giro Abbiamo fatto Quanto tempo Abbiamo sprecato Per Arrivarci E andiamo Il padre Martin Si è inchiodato Ah Questa è bella Guarda Cazzo A me Ne frega Se il gioco Si inchioda Perché Non c'abbiamo Padre Martin Padre Martin Padre Martin Padre Martin Nacala